Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuto a Roberto Gualtieri, ministro dell'economia del Partito Democratico, buonasera a Ezio Mauro, editorialista di Repubblica e buonasera a Diego Bianchi, conduttore qui sulla sette di Propaganda Live. Oggi è stata una giornata interlocutoria per Conte al tavolo europeo, ma sul fronte interno restano naturalmente i gravi problemi economici, sono tanti e con una maggioranza molto poco coesa. Subito dopo la pubblicità. Ministro Gualtieri, oggi c'è stato il Consiglio europeo, il Premier Conte ha detto clima convergente, lei ha detto aumentano le convergenze, in generale queste parole non lasciano sperare molto bene. Allora, uno, entro luglio ci sarà l'accordo sul recovery fund, due, per l'Italia ci saranno sempre questi famosi 172 miliardi ma che arriveranno, come ha detto oggi la cancelliera tedesca Merkel, non prima del 2021? Allora, sì, penso sì, ci sarà l'accordo a luglio, al meglio tutti si sono impegnati a questo, riconoscendo che è urgente concludere un accordo che poi è una dimensione davvero senza precedenti come portata. E francamente trovo corrette queste affermazioni, e non positive, che abbiamo fatto, perché circa le convergenze. Quello che oggi ha colpito è che al di là delle differenze su alcuni aspetti che però si stanno riducendo in importanza, ormai tutti danno per acquisito quello che fino a poco tempo fa sosteneva praticamente solo il governo italiano, e cioè che occorresse emettere centinaia di miliardi di euro bond per finanziare investimenti e spese comuni per affrontare la crisi del coronavirus. Questa cosa prima non la diceva nessuno, adesso è la base da cui neanche i paesi più critici che appongono dei temi, delle questioni su alcuni aspetti, ormai mettono in discussione. Ci sarà questo recovery fund, la Commissione si finanzierà sui mercati con dei titoli europei, che è un modo per dire gli euro bond, e queste risorse, ma questo è il piano dal 2021, con un anticipo di risorse su alcuni progetti già dal 2020. E poi ci sono questi altri strumenti, il Solvency Instrument è uno strumento per sostenere le imprese che partirà già dal 2020, lo ha detto anche Angela Merkel. Quindi quando, 2020 da quando? Dall'autunno, e poi ci sarà anche un pezzo di fondi aggiuntivi, dei fondi strutturali anche per l'autunno. Il grosso delle risorse partiranno da gennaio. Quindi lei è tranquillo, le casse dello Stato, le casse del Ministero del Tesoro, i soldi li ha? Noi siamo ovviamente con un deficit alto, come tanti paesi europei, perché stiamo giustamente reagendo a questa crisi come occorre fare, come magari è stato fatto meno rispetto all'altra crisi, e qui c'è una differenza politica, di linea politica economica evidente, questa volta si è scelto di rispondere con degli stimoli fiscali, anticiclici, molto potenti, immediati e tutti i paesi, tra cui l'Italia, stanno giustamente facendo il massimo per sostenere i lavoratori, le imprese, le famiglie e per contrastare una recessione che ovviamente è inevitabile ma da cui vogliamo uscire il più presto possibile. È molto importante che ha questo sforzo che ogni paese sta riuscendo a fare da sé e anche noi stiamo avendo ottimi riscontri sulle nostre emissioni di titoli di Stato, quindi abbiamo una situazione positiva grazie anche al sostegno della Banca Centraeuropea, ma anche grazie ai fondamentali sani dell'economia italiana. Per questo è molto importante però che ci siano anche queste risorse comuni europee, perché siamo davvero davanti a una crisi senza precedenti. Quindi sbaglia chi pensa che non ci siano più soldi e che per questo non stiano arrivando alle imprese, ai lavoratori, ci sono i soldi, sì. Ci sono, ma stanno arrivando anche, guardi, poi se vuole diamo un po' di numeri. Diciamo ci sarebbero subito i soldi del MES, sono mi pare 36 miliardi, e potrebbero arrivare subito se l'Italia finalmente si decidesse a chiedergli questi soldi. Però i 5 Stelle sono contrari, l'opposizione non ne parliamo, siete solo voi del PD che li volete. Quindi il MES lo chiederete? Il MES come SURE sono prestiti, questa è la differenza fondamentale tra i cosiddetti finanziamenti a fondo perduto del Recovery Fund, che sono per questo molto più importanti perché non vanno ad aumentare il debito pubblico. Sono prestiti, quindi aumentano il debito pubblico, quindi non sono risorse aggiuntive gratuite, diciamo così, e tuttavia hanno il vantaggio, come i miliardi di SURE, di essere emessi, di essere dati a tasso zero. Noi sui mercati emettiamo titoli all'1,3 qualcosa, adesso è il decennale, questi sono allo 0,08 su 10 anni, quindi sono più convenienti, si risparmia qualcosa in interessi sul debito pubblico e quindi sono risorse, diciamo, utili. E non ci sono condizionalità, ma c'è chi dice che per dire che non ci sono condizionalità bisognerebbe cambiare i trattati, i trattati non sono stati cambiati. No, questo non è vero, non ci sono condizionalità, o meglio, c'è questo punto che, ora, non è così interessante, ma che molti forse non hanno capito, che le condizionalità ci sono, ma noi abbiamo ottenuto che la condizionalità è una, e cioè che questi soldi vengono dati a condizione, e qui rispetto del trattato, che vengono usati per sostenere le spese sanitarie dirette e indirette. E quindi questa è la condizione, quindi è una condizione giusta, naturalmente. Quindi l'Italia deve ricorrere ai soldi del Fondo Salve? È un utile strumento, la cui semplice esistenza aiuta a tenere bassi tasse di interesse, perché tutti sanno che tutti i paesi, se hanno bisogno, possono ricorrere immediatamente a queste risorse. Naturalmente ci farebbe risparmiare qualcosa, ma noi abbiamo giustamente detto che affronteremo questa questione quando avremo concluso il negoziato sul recovery fund, che è il negoziato principale che stiamo affrontando. Ezio Mauro, vedevo che ascoltavi attentamente le parole del Ministro, tutto chiaro, tutto se è convincente, quello che ci dice, rassicurante quello che ci dice il Ministro dell'Economia? No, è sicuramente rassicurante perché il Ministro ha ragione quando dice che c'è un'inversione proprio di cultura per quanto riguarda l'Europa. C'è un intervento mutualistico, solidaristico, che era sempre stato escluso in precedenza. Quindi l'Europa, con una partenza un po' contraddittoria all'inizio, ha preso atto dell'eccezionalità di questa crisi che riguarda tutti i paesi e che ha colpito noi per primi, costringendoci a sperimentare per conto dell'intero Occidente dopo l'attacco alla Cina. Quello che il Ministro potrebbe spiegarci è che qualcuno sostiene che si sta profilando in Europa uno scambio tra l'urgenza di questi provvedimenti e la necessità di farli, sostenuta anche oggi dalla Merkel, e il fatto che la quota che spetta l'Italia verrebbe ridotta. Lei ha avuto assicurazioni in questo senso, ha parlato col Presidente del Consiglio. Che cosa può dirci? Ministro? È un negoziato e naturalmente i vari paesi hanno diverse posizioni sull'entità delle risorse e anche sulla allocazione, sulla distribuzione, su quali indicatori vanno utilizzati per la distribuzione delle risorse. Noi naturalmente siamo molto combattivi, difendiamo la proposta della Commissione, che ci sembra un'ottima proposta e che effettivamente assegna l'Italia moltissime risorse. 172 miliardi, lei conferma? Sì, è un conto molto complicato, c'è una parte appunto di grant, cosiddetto fondo perduto, c'è una parte di prestiti, poi ci sono una serie di altri programmi a cui si può attingere anche in modo differenziato rispetto alla propria capacità, ma quindi stiamo parlando di una cifra di quell'ordine di grandezza. Ezio Mauro, tu hai scritto spesso che l'identità politica di questo governo è un nodo irrisolto. Ascoltando il Ministro anche stasera, avendo seguito i negoziati in Europa, gli Stati Generali, la direzione di marcia ora è più chiara? Rimane un problema di cultura politica comune che non è risolto e il MES è un esempio, da un lato c'è un blocco ideologico, dall'altro lato c'è un approccio pratico da parte del PD che è quello che il Ministro ha illustrato pochi minuti fa. Perché la cultura delle due forze che si mettono insieme per fare il governo non si è ancora fusa, non abbiamo ancora saputo se i Cinque Stelle fanno un'alleanza di necessità col PD o hanno fatto una scelta strategica, quella che sembra, da quanto si capisce, aver fatto Grillo. Ma è la stessa cosa per Di Maio? È la stessa cosa per Di Battista? È la stessa cosa per Crimi? È la stessa cosa per Conte? Di fatto abbiamo visto che come se i Cinque Stelle avessero aperto un armadio una sera, avessero posato la giacca dell'alleanza con Salvini e avessero indossato la giacca dell'alleanza con la sinistra, senza spiegare perché, nemmeno al loro elettorato. E quindi la natura di questo governo è ancora una natura definita soltanto dalla prassi, dai comportamenti. Non c'è stata una scelta chiara. Una volta la politica, a qualunque latitudine, in qualunque paese, di fronte a scelte così decisive di cambiamento, aveva lo strumento del congresso, dove si presentavano opzioni diverse, si confrontavano tra di loro, qualcuno vinceva, qualcuno perdeva e la leadership era la conseguenza di tutto questo. No, non c'è niente di tutto questo nel Movimento Cinque Stelle. Di sicuro, Diego Bianchi, tu come vedi l'identità di questo governo? C'è chi dice che è troppo spostato a sinistra, perché sembra andare più d'accordo con i sindacati che con Confindustria. È un governo che non ha una direzione chiara? Allora, intanto buonasera a tutti. Diciamo che condivido il ragionamento che faceva Ezio Mauro sulla cultura politica e sull'identità di una parte, la parte principale poi di questo governo che, soprattutto di questo Presidente del Consiglio, che ricordiamolo è la seconda Presidenza del Consiglio e l'abbiamo conosciuto tutti come Presidente del Consiglio di un governo con la Lega e ai miei occhi questo caratterizza molto l'identità del leader di questo governo. Poi come sia stato capace lui e la parte che lo esprimeva, che comunque era il Movimento Cinque Stelle, resta il Movimento Cinque Stelle a cambiare casacca, questo resta un mistero politico, un mistero di cultura politica. Poi la Prassi, come abbiamo visto, anche sulla base di tutto quello che è accaduto quest'estate ha giustificato questo, non solo per il Movimento Cinque Stelle, ma un po' per tutte le forze che si erano odiate fino a poco prima. Parlo del PD, parlo anche di Italia Viva, non parliamo quasi mai di Renzi, che comunque è parte del governo, non parliamo di Leo, forze che in teoria non dovevano mettersi insieme a che poi si sono ritrovati e si ritrovano a gestire una situazione che è unica, l'abbiamo detto tante volte. Il fatto che i sindacati, che in questo momento ci sia questa apparente, come dire, maggiore sintonia con i sindacati che con Findustria, ne prendo atto, dopodiché non so se questo vuol dire necessariamente essere di sinistra, diciamo che in relazione agli stati generali di Villa Panfili, io sono andato a Villa Panfili martedì e ci sono andato non per vedere la Villa blindata, per quanto bellissima, con le persone che ci correvano intorno, anche perché i giornalisti non potevano entrare, quindi si vedeva ben poco, si vedeva e si sentiva ben poco. E cosa hai trovato? Sono andato per seguire la protesta di un sindacarista, sicuramente di sinistra, che è Abubakar Sumaurò, che per farsi ascoltare si era incatenato a una panchina dalle prime ore del mattino e aveva iniziato uno sciopero della fame della sede insieme a alcuni suoi compagni sindacalisti e braccianti. Dopo più o meno otto ore è stato ricevuto, so che ha incontrato Presidente Conte, ha incontrato anche Gualtieri e lui portava delle istanze molto concrete sulla patente del cibo, lui ha proposto una patente del cibo, Gualtieri può confermare, so che Conte ha detto essere un'idea bellissima e geniale, ha tenuto il punto sull'emergenza del lavoro, sulla necessità di non perdere il posto di lavoro in seguito a questa emergenza sanitaria che c'è stata e soprattutto a posto dei punti ben precisi sulle politiche migratorie che caratterizzerebbero molto questo governo a sinistra o a destra. Ho parlato appunto di Toglieri. La domanda che faccio, scusami Lilli, la cosa che mi ha colpito è perché un protagonista in questo momento della vita politica del Paese, perché Abubakar Sumaurò lo è da tempo, sia stato costretto a incatenarsi a una panchina e a minacciare lo sciopero, a iniziare uno sciopero per avere udienza in un contesto dove si parlava del rilancio economico di questo Paese, visto che la sua non è una battaglia singola, lui rappresenta delle persone. Mi verrebbe a me da rispondere al posto del Ministro, nel senso che con l'emergenza coronavirus è cambiato un po' tutto, è una situazione di emergenza e anche alcuni dibattiti sembrano un po' antichi e le richieste che arrivano al governo e in particolare anche al Ministro dell'Economia sono tantissime. Allora proviamo un po' a vederle perché sicuramente c'è la questione dei soldi che non arrivano e che è il rimprovero che vi viene fatto più spesso, dalla cassa integrazione ai prestiti alle imprese, alcuni bonus e è un problema che esiste sin dal primo vostro decreto. Quanto bisogna pazientare ancora perché arrivino i soldi per esempio dalla cassa integrazione e i prestiti alle imprese perché ancora troppe banche non li accordano? Allora sulla cassa integrazione effettivamente per una parte quella inderoga che è una procedura molto complessa che evidentemente non era in grado di reggere un aumento di domande come queste durante il coronavirus, ci sono stati dei ritardi inaccettabili, noi li abbiamo detto subito e abbiamo infatti modificato la procedura col decreto rilancio, adesso c'è una procedura più spedita. Fortunatamente ormai, ma questo non è una giustificazione perché comunque alcuni lavoratori hanno aspettato troppo tempo, l'Inpsa quello che risulta, poi appunto abbiamo i dati che ci danno, sono stati pagati il 96% di tutte le domande che gli sono arrivate, quindi il problema ormai è fortunatamente superato ma tuttavia c'è stato un ritardo molto negativo naturalmente per parecchie centinaia di migliaia di lavoratori che aspettavano e le strutture semplicemente amministrative non hanno retto di fronte a queste domande così tante. Sulle altre cose devo dire, situazioni un po' diverse, si è creato anche un po' una diciamo leggenda su alcune cose, per esempio i famosi 600 euro che noi abbiamo dato a quasi 5 milioni di persone sono stati erogati abbastanza rapidamente, la prima volta in un paio di settimane la seconda in 24 ore, quindi milioni di persone, adesso sta partita la procedura del fondo perduto sta funzionando molto bene, il sito dell'agenzia delle entrate fortunatamente incrociando le dita sta raccogliendo tutte le domande, abbiamo ricevuto anche dei complimenti, da lunedì partirà l'erogazione, vedremo dovrebbe essere molto rapida. La famosa liquidità, noi siamo stati l'unico paese d'Europa che ha deciso di fare una cosa che non era prevista, abbiamo detto all'Europa che andava fatta, ci hanno autorizzato e poi gli altri paesi ci hanno copiato di fare una moratoria obbligatoria dei prestiti e dei mutui, per cui tutte le imprese che avevano un prestito con una PEC li hanno bloccati e questa cosa è stato un successo clamoroso, nessuno ne ha parlato, forse per questo, ma 270 miliardi di liquidità sono stati bloccati, 276 e più di 2 milioni di persone hanno avuto immediatamente questo beneficio, i prestiti garantiti al 100% soprattutto, hanno iniziato anche lì lentamente e molte banche non hanno lavorato bene, alcune sono state bravissime nell'inizio, altre hanno avuto fatica, adesso stiamo andando a un ritmo di un miliardo al giorno, un ritmo tant'è vero, un miliardo di prestiti al giorno erogato, tant'è vero che dovremo mettere più soldi nel fondo centrale di garanzia, proprio perché adesso dopo un inizio faticoso e con grandi differenze, ancora ci sono delle differenze, però ormai la maggioranza va abbastanza rapidamente e quindi adesso però il ritmo è talmente alto che si va a ritmi davvero intensi. Ministro, abbassare l'IVA anche solo temporaneamente come fanno i tedeschi è escluso per noi? È una misura molto costosa naturalmente che dobbiamo valutare perché noi oggi fino adesso abbiamo speso, siamo tra i paesi europei che hanno speso di più. Quanto avete speso fino adesso? Beh, dal punto di vista degli interventi diretti è il 4,5% del PIL, cioè più di 75 miliardi, più anche le moratorie fiscali, quindi si va di più e come liquidità siamo sopra il 35% del PIL di garanzie e che si stanno erogando, adesso siamo appunto sui 300 miliardi, insomma stiamo andando a ritmi molto rapidi. Quindi sono interventi corposi per un paese come l'Italia, sappiamo che occorre fare ancora, per questo abbiamo insistito molto anche sulle risorse europee, stiamo facendo gli stati generali anche per definire un piano di rilancio dell'economia e quindi definiremo quali saranno le misure più appropriate e sarebbe sbagliato anticipare qualcuna di essere... Allora prima di reinterpellare Ezio Mauro cosa voleva rispondere a Diego Bianchi, Ministro? No, perché è stato un incontro molto interessante, erano stati invitati tutte le organizzazioni sindacali esistenti, ora non me ne sono occupato io ma insomma era un elenco lunghissimo, quindi francamente non so perché lui non fosse tra l'elenco, però quando abbiamo saputo almeno io che era lì e stava facendo questa protesta è stato deciso immediatamente di invitarlo e quindi poi paradossalmente saranno degli incontri più lunghi di quelli che ci sono stati agli interi stati generali, anche uno dei più interessanti devo dire perché ci sono state molte proposte. Infatti non pensavo di aver detto qualcosa di strano prima, parlando di sindacalisti di sinistra mi sembrava di essere in tema. E anche perché il Ministro si considera di sinistra, no? Beh sì, direi proprio di sì. Ezio Mauro, abbiamo sentito le cifre che ci ha dato il Ministro, l'Italia non si è mai trovata a spendere così tanti soldi probabilmente dal dopoguerra in poi, tu trovi che l'erogazione di tutti questi aiuti dopo le falle e le lungaggini anche burocratiche dei primi tempi adesso stiano funzionando. Il Ministro dice che sono stati superati quasi tutti gli ostacoli, ma il Governo continua ad essere attaccato ferocemente e non solo dalle opposizioni invece per le lentezze nell'erogazione degli aiuti. Il Ministro sa benissimo che una parte della diffidenza che viene dai paesi nordici e dai paesi del blocco orientale d'Europa è proprio sulla modalità di spesa. È importante che si cambi proprio il registro e la mentalità, che non diventino degli aiuti assistenziali di clientela e che non diventino delle cambiali elettorali, ma che mettano in movimento, vadano a tappare le falle che si sono aperte, come nel caso del MES e dei fondi del MES per il sistema sanitario e vadano a mettere in campo anche delle infrastrutture nuove che generino lavoro e modernizzino il Paese e consentono quindi al Paese di presentarsi con un volto diverso dopo il coronavirus. È inutile ripetere che nulla sarà più come prima e poi non usare questi fondi per una seconda ricostruzione del Paese. Bisognerebbe ricostruire quello spirito. Io non lo vedo molto questo spirito perché, ad esempio, le opposizioni faticano a entrare nel clima di ricostruzione, hanno smesso le loro campagne ma è perché l'evocazione di una paura artificiale, come hanno fatto per mesi e per anni e soprattutto profetizzando la cosiddetta invasione degli immigrati, sono state zittite e cancellate dalle paure reali che gli italiani avevano col coronavirus e quindi faticano a trovare un vocabolario nuovo con cui esprimersi. Dicono che l'Europa interviene troppo poco dopo che hanno passato anni a dire che l'Europa interveniva troppo. Ma il vero problema, profittando del fatto che abbiamo un Ministro che è con noi e che può spiegarci alcune cose, è che l'emergenza che abbiamo davanti della produzione rischia di innescare un'emergenza dell'occupazione. Il Ministro l'altro giorno ha detto che le misure di blocco dei licenziamenti non possono durare all'infinito, è ovvio. Ha fatto balenare uno scambio di interventi di sgravi fiscali per chi non taglia in cambio del blocco dei licenziamenti. Ecco, può dirci che cosa si aspetta sotto questo fronte e se queste misure possono bastare? Allora, blocco licenziamenti e aggiungo anche il decreto dignità che i 5 Stelle non vogliono cambiare, non vogliono sospendere, ma invece ve lo chiedono a gran voce tutto il mondo delle imprese. Su questi due punti cosa ci può dire? Intanto noi già abbiamo nel decreto rilancio introdotto una modifica a un aspetto, solo a questo, del decreto dignità che prevede l'obbligo di causale per i rinnovi dei contratti a termine oltre i 12 mesi, dicendo che in questa fase questa causale si poteva non avere fino al 31 agosto. Adesso è ragionevole pensare che questa cosa, ma solo questo, il resto non c'è intenzione di cambiare nulla perché in questa fase sia più sensato allungarlo ulteriormente, probabilmente fino alla fine di dicembre. E questo è uno degli interventi che dovremmo fare per affrontare l'autunno. Lo farete e vincerete le riottozità dei 5 Stelle. Guardi che è stata creata una... La verità è che noi, tenuto conto dell'enormità della sfida che stiamo affrontando, vorrei dire anche prima, con la difficoltà di fare una manovra finanziaria, le clause di salvaguardia, questo governo riesce a trovare unità, punto di sintesi nei provvedimenti, nelle azioni, anche con una fisionomia coerente. Noi abbiamo detto con chiarezza, noi siamo stati il governo che ha detto no all'evasione fiscale, no alla flat tax, finanziamo la sanità pubblica, l'abbiamo fatto prima del coronavirus. Abbiamo avuto un'impostazione di politica economica e di politica sociale abbastanza chiara come fisionomia e siamo riusciti a affrontare uniti una crisi senza precedenti. Adesso noi con la stessa unità affronteremo questi problemi. Il blocco di licenziamenti? Il blocco di licenziamenti c'è ed è giusto che ci sia, come è stato giusto prevedere la cassa integrazione per tutti i lavoratori. Al di là dei ritardi che sono un problema, però abbiamo fatto una cosa giusta dicendo no ai licenziamenti per legge e cassa integrazione per tutti i lavoratori. Questo non l'hanno fatto tutti i Paesi. Ma fino a quando potrete bloccare i licenziamenti? Come abbiamo spiegato, ma come sa, non è un punto di discussione che il blocco di licenziamenti e la cassa integrazione Covid non potranno durare in eterno. Questo è evidente perché nessun Paese ciò avviene, ne avverrà. Dobbiamo gestire questa transizione tra la fase di crisi maggiore e quindi prolungheremo questi provvedimenti. Sicuramente faremo più cassa Covid, più blocco dei licenziamenti e poi dovremo trovare dei meccanismi per incentivare l'occupazione, evitare licenziamenti ma naturalmente adeguarci a una situazione più normale. Quindi se non può dare una data ancora. Non c'è uno scontro politico. C'è una ricerca di soluzioni a problemi molto difficili con cui si misurano tutti i Paesi e che noi affrontiamo con serietà e con impegno soprattutto. Sapendo, posso dire una cosa a Ezio Mauro, questo ha detto una cosa molto importante, però bisogna distinguere due fasi. In questa fase era giusto, io respingo le critiche, chi dice avete fatto troppi provvedimenti per troppe categorie e perché dovevamo escludere qualcuno? Noi dovevamo difendere e proteggere innanzitutto i più deboli. Quindi in questa fase era giusto fare così, era proprio giusto. Naturalmente quando parliamo del piano per la rinascita del Paese, noi invece dobbiamo concentrare le risorse europee su pochi interventi fondamentali che devono cambiare il volto del Paese e quindi più investimenti in banda larga, più investimenti sulla scuola, sulla ricerca, sulle infrastrutture e questo è il piano che stiamo elaborando che è un piano diverso, è una diversa fase. C'è il problema che è la fase più complessa di collegare questa fase degli interventi amplissimi, ad amplissimo raggio, alla fase della ripresa. L'autunno sarà il momento delicato e si stiamo preparando esattamente a questa fase proprio per evitare i scenari che vengono evocati e che io penso non ci saranno. Non è anche lei rivolte sociali in autunno come temono? No, noi stiamo lavorando e stiamo facendo moltissimo esattamente per evitare questo. Tra l'altro cambiamo fortuna. Quindi lei non crede che ci saranno? No, io non penso ci saranno ma naturalmente dipenderà anche da noi e dall'impegno e dall'efficacia delle cose che faremo. Ministro guardi le foto, le foto che la ritraggono che sono state pubblicate da vari siti mentre ecco versione pop del ministro Gualtieri, va al supermercato a fare la spesa. Diego Bianchi, intanto non abbiamo mai capito, li è andata bene perché non l'hanno riconosciuto oppure l'opinione pubblica e i cittadini hanno capito che la fase è veramente molto complicata e che il governo sta facendo il suo dovere e sta facendo bene. Gli è andata bene dal punto di vista dell'incolumità personale? Sì. No, io direi almeno noi di smettere, di immaginare questo scontro continuo fra politici e cittadini che se qualcuno avesse riconosciuto Gualtieri chissà cosa sarebbe successo, voglio immaginare che al massimo gli avrebbero fatto le stesse domande che gli stiamo facendo noi. No, ma certo. No, 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 perché in realtà quando si parla di autunno caldo poi c'è l'obiettivo, la classe dirigente, la politica, un ministro come Gualtieri è sicuramente un protagonista del momento e può essere un positivo o un negativo e deve rispondere alle esigenze dei cittadini. Quello che dico è che sicuramente Gualtieri dal mio punto di vista, lo conosco da tanto tempo e proprio per questo mi permetto di dire che è un serio professionista della politica. Ora, quando io dico questa cosa lo dico con un'accezione positiva, altri magari dicono, lo direbbero, direbbero la stessa cosa con un'accezione assolutamente negativa, ma questo è un po' il segno dei tempi. Quindi direi che no, non l'hanno riconosciuto per la mascherina, ma anche perché Gualtieri in realtà non è per niente pop, nel senso che in televisione poi alla fine ci va pure poco. Molti politici in realtà vengono riconosciuti non in quanto politici ma in quanto personaggi televisivi e questo è un po' un problema. E questo è un po' un problema, sono d'accordo con te. Ezio Mauro, è appena uscito il tuo libro Liberi dal male, il virus e l'infezione della democrazia, pubblicato da Feltrinelli, e scrivi che il virus ha già attaccato la politica e cambiato il rapporto tra cittadini è stato. In che modo? Nel senso che noi pensiamo che ha ragione naturalmente che il virus sia un agente patogeno e ci tuteliamo da questi effetti, ma il virus è anche altro, è un agente sociale che ha messo in campo una trasformazione assoluta, ci ha costretti a entrare dentro l'emergenza, ad accettare degli stati d'eccezione. Sono 88 i paesi nel mondo che hanno adottato delle misure d'eccezione e ci ha fatto scambiare quotidianamente in modo volontario, con una costrizione volontaria, delle quote di libertà con delle quote di sicurezza. Allora la democrazia quando entra nel campo dell'eccezione deve stare attenta, deve stare attenta soprattutto che il Parlamento possa controllare ogni passo di queste misure, che il governo sia trasparente nel dire la verità dello stato delle cose al paese e che le misure siano temporanee. Questo è quello che distingue l'eccezione, come quella determinata dal coronavirus nell'universo del pianeta, nei confronti di una democrazia come quella italiana, come quella europea occidentale e nei confronti invece dei sistemi liberali, dove proprio l'anomalia dell'eccezione è quello che le leadership cercano, per liberarsi dai vincoli, dai lacci e dai lacciuoli che i controlli della democrazia e il bilanciamento dei poteri comportano. A questo governo, in proposito, che voto daresti da 1 a 10? Ma guarda, il governo per quanto riguarda il coronavirus credo che tu intenda, no? No, anche in quanto a trasparenza, in quanto a interpellare a sufficienza il Parlamento, tutto quell'elenco che tu hai fatto. Beh, diciamo che il governo ha commesso degli errori, come hanno commesso i governi di tutti i paesi e qualcuno in modo molto più grave di noi, penso al Brasile naturalmente, penso agli Stati Uniti, penso al Regno Unito e penso alla Svezia in particolare. Però bisogna tenere presente che il governo e l'Italia sono stati la cavia occidentale di questo fenomeno. Abbiamo sopportato l'urto per primi e non eravamo preparati né noi né l'Europa occidentale né gli Stati Uniti e abbiamo dovuto prendere delle misure di contenimento per primi senza avere un vero modello, se non quello autoritario della Cina che non poteva certo funzionare nelle democrazioni occidentali. Quindi il voto complessivo che io do al governo nella condotta del coronavirus è sufficiente. Dal punto di vista più generale credo che il governo dovrebbe passare dalla fase di ascolto e dalla fase dell'equilibrio tra le varie categorie che lo sollecitano da una parte all'altra, alla fase della decisione, a proporre un nuovo patto sociale agli italiani. C'è il momento, è il momento di rimettere in equilibrio l'alleanza tra il welfare state che va sottratto alla logica di mercato, la democrazia rappresentativa e il capitalismo. Siete pronti a fare questo nuovo patto sociale? È quello che abbiamo esattamente deciso di fare, cioè gli Stati Generali, al di là della discussione c'è stato, il luogo, ma sono esattamente questo, cioè chiamare tutte le energie del Paese, le forze sociali, produttive, le associazioni, a dire adesso dobbiamo, abbiamo un'opportunità unica, c'è una crisi senza precedenti, ma è anche un'opportunità di cambiamento, ci sono anche delle risorse europee, non possiamo perdere questa opportunità, abbiamo tutti un senso di responsabilità di definire una lista di priorità e di obiettivi e raggiungiamoli insieme. Ma le opposizioni non riuscite a coinvolgerle, questo è un dato di fatto? Ci abbiamo provato, ci proviamo continuamente e continueremo a farlo senza mai avere uno spirito polemico perché in questa fase, una fase di questo tipo, tutti devono essere coinvolti. Naturalmente vedo un certo atteggiamento un po' strumentale perché si è detto che non andava bene Villa Panfili, allora ho detto ma allora ci vediamo a Palazzo Chigi, no non andava bene neanche quello. Però è fiducioso anche su questo. Ministro mi dica sul Premier Conte rapidissimamente, siccome lei adesso lo conosce bene, cosa deve fare Conte? Deve fare il capo dei Cinque Stelle, deve fare un suo partito, deve fare il nuovo Prodi, quindi il leader di una coalizione di centro-sinistra? Conte sta facendo molto bene e il consenso di cui riscuote è giusto perché ha fatto benissimo in una fase così difficile. Il capo del governo è a capo di una coalizione che sta lavorando insieme e che trova nel Presidente del Consiglio un punto di sintesi e di impulso. Quindi il governo reggerà, supererà anche la crisi estiva, quella dell'autunno, lei è molto fiducioso anche su questo. Sicuro? Sicuramente. La ricorrente, non so se è un auspicio di alcuni naturalmente, di altri che vogliono un po' più di... Ma la verità è che anche il mio partito, noi siamo uniti, il PD è unito e davvero Zingaretti sta facendo un lavoro straordinario. Non litighiamo, lavoriamo costruttivamente in una coalizione... Chi mette in dubbio anche oggi è il suo segretario Zingaretti, no? Ma sono voci davvero isolate perché c'è un consenso larghissimo e davvero è degno di nota appunto che il PD, che in altri periodi era noto sempre per discussioni, eccetera, è unito e non ha mai avuto una polemica, una discussione, sta invece contribuendo all'unità anche della coalizione. Quindi il PD è un elemento di forte stabilità. e l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, partendo dal fatto che siamo due partiti molto diversi, noi eravamo all'opposizione, in realtà io trovo che sta andando, posso dire, meglio di come io pensassi. Ci sono molti più elementi di convergenza di quelli che pensavamo ci fossero all'inizio, ci sono ovviamente differenze, perché siamo due partiti diversi, non siamo lo stesso partito. Quindi Dezio Mauro chiede la cultura politica comune, ma noi non possiamo avere la cultura politica comune, è un altro partito. È un altro partito. E tuttavia la coalizione sta funzionando bene e questo è merito anche di Conte. Schiarissimo. Punto di Paolo Pagliaro. La ricostruzione dei prossimi mesi dovrà tenere conto di un'altra grande emergenza, quella demografica. Pochi secondi pubblicità. I residenti in Germania sono 83 milioni e 200 mila, il numero più alto dalla riunificazione a oggi. Sono 147 mila in più dell'anno scorso, ma è un record ingannevole. In realtà i tedeschi sono diminuiti dello 0,2%, mentre sono aumentati del 3% gli immigrati, che oggi rappresentano il 12,5% della popolazione. I dati comunicati stamane dall'Ufficio Federale di Statistica confermano che anche in Germania la demografia è debole. Certo non come in Italia, dove l'anno scorso si è registrato il minor numero di nascite di sempre e dove neppure l'immigrazione più contenuta che in Germania basta ormai a garantire il segno più al saldo demografico. Il problema ha una dimensione europea e si avvia a diventare un'emergenza. Due giorni fa la Commissione ha ricordato che se nel 1960 gli abitanti dell'Europa erano il 12% della popolazione mondiale, ora sono il 6% e nel 2070 saranno solo il 4%. Nei prossimi decenni la Bulgaria perderà il 39% della sua popolazione, la Romania il 30%, la Polonia il 15%. Il declino europeo sarà talmente rapido e vistoso da non poter essere arginato con politiche ordinarie. La Commissione annuncia un libro verde sull'invecchiamento della popolazione e dice che quello demografico dovrà diventare l'elemento trasversale di tutte le scelte strategiche dell'Unione. Incisive politiche sociali a favore della natalità e un'immigrazione ben governata sono ciò che l'Italia e gli altri stati europei possono fare per sfuggire a un destino di irrilevanza. Allora grazie, grazie Ministro Gualtieri, ovviamente buon lavoro. Grazie Ezio Mauro, ricordo il tuo nuovo libro Liberi dal male, il virus e l'infezione della democrazia pubblicato da Feltrinelli. Grazie Diego Bianchi e adesso ricordo che vai in onda con il meglio di, il meglio di Propaganda Live, quindi restate qui con noi. Grazie spettatrici e spettatori e noi come sempre ci vediamo domani 8 e mezzo. Arrivederci.